Un piccolo blackout Va bene, siamo tornati I forti di prima, si spera In realtà pensavo fosse In casa mia, però è crashato anche Irokami Che è del mio stesso paese, quindi Pare ci sia stato proprio un piccolo problema Un paese Ma è stato Non lo so, un secondo Si è spento tutto e si è receso subito Pensavo fosse un problema mio Perché ogni tanto succede qui a casa mia Magari superamento di potenza Ci può anche stare Perché ho ucciso il ventilatore, guarda caso Ma vabbè, dai pazienza L'importante è che non è successo niente Certo, non fa di certo mai bene Questa cosa al pc Però vabbè, pazienza Mi sono pure entrate le zanzare in casa Allora Vediamo un attimo di riagganciarci A quello che stavamo facendo Miseria Vabbè, dai Siamo tornati Siamo tornati Adesso Ok Ma questo non mi serve al momento Dove sta? Dove sta? Vediamo se si apre intanto Rocket Che bello che mi si bugga tutto Ogni volta che si apre Rocket Cioè si autobugga Rocket Allora Stavo dicendo Eh no Adesso devo un attimo aspettare lui Per capire un secondo Eh, non se tutto stavo Cosa stavo facendo? Stavo facendo Item shop qua Il free Pride mount Vediamo cos'era Ah, lo avevo preso Questo Sì Im Che Che Sì Chose 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 E Sì Al ma io ho finito di accumulare credo di sì sì ho finito con i soldi in sostanza ciao spider salve 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 tiro ciao a tutti sì sì credo di sì ma mi mancano 150 sono triste ma devo dire di vorrei comprarli da qualche parte oppure potrei comprare questo che costa 4 ore 10 perché si dice ora sono decisamente troppi e alla fine 500 ne ho a quanto costo invece a 300 1.300 allora salve 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 anche a lei mario allora un secondo ragazzi perché devo vedere se riesco a raggiungere gin se risponde che avevo scritto che siamo sono qui non l'ho ancora non l'ho ancora ah stai riavviando di nuovo ah ok 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 non l'ho ancora comprata la scalene volevo prenderla adesso però ho 850 crediti mi ne mancherebbero 150 per la scalene perché sinceramente mi interessa solo la scalene e e quindi devo vedere cioè devo vedere cosa mi conviene fare insomma o da dove comprarli eventualmente cosa mi consigliereste di fare perché faccio 1000 1000 e 3 in tutto sarebbe dunque 150 150 e etere cioè allora io credo la cosa più conveniente sarebbe prendere è a 1000 si esatto solo la skyline bravo e il pack vero si scusate che ho il tabato perciò vedetevi il gioco bloccato comunque si pensavo di di prendere questo qui questo non questo questo perché il pack arrivi a 1350 prendi 1000 di sky e il pack rote sky si rote sky sarebbe dunque questo mi vabbè il zsr già ce l'ho pazienza poi in caso l'avendo qualcuno non lo so di qua non me ne fregasse assolutamente nulla mi fregherebbe solo dei dei crediti che sono 500 dunque abbiamo detto pack rote sky tu intendi questo aspetta aspetta un attimo questo qua costa 300 ma sarebbe il pack che mi da questo questo tipo di di upgrade sulla sulla skyline cioè questa carrozzeria ho preso le ruote tutto ah ok quindi non solo le ruote ok ho capito ho capito perfetto si vabbè chiaramente eh si ovviamente nella te le darebbero tutte e due ok perfetto beh ovviamente questo ha bisogno della della macchina perché sennò perché le altre tre per carità sono belle però cioè oddio ma questa no per quanto si ok mi piaccia il film mi piace un sacco però raga mi piace questa macchina ah proprio no la pontiac non mi è mai piaciuta oddio la doge magari non so perché ci starebbe anche per carità perché comunque però anche qui non mi piace tantissimo non mi piace tantissimo penso che devo devo andare su questo perché altrimenti le alternative quale potrebbero essere cioè 500 crediti a meno di 4 euro li trovo da qualche parte su qualche sito c'è il sito dove si comprano spesso i crediti che è quello che usa sempre anche irokami però adesso non so non credo perché 500 crediti penso se girerò più o meno sempre su quel prezzo lì ecco perché volevo un attimo aspettare lui perché lui bene o male se ne intende molto di più rispetto a me di queste cose e volevo chiedergli un parere perché mille crediti per carità è bellissimo la macchina però mi piace anche però 16 euro direi che sono anche un po' tantini vediamo se mi è scritto qualcosa vediamo un messaggio vocale vedo un secondo cosa dice sì va bene dai niente sta imprecando contro tutti i problemi comunque io dico ti aspetto su discord ok dicevamo se non avete qualche altro consiglio penso a questo punto andrei sul sicuro tanto ripeto io voglio solo la skyline ovviamente quei 300 crediti per l'impostazione base sono d'obbligo a questo punto è ok allora scusate un secondo eh va bene adesso devo un attimo vedere perché se lo sbaglio dovrei aggiungerci i soldi su su steam si va bene dai direi che va bene così aspetta fatemi fare un giretto su quel sito se riesco a trovarlo e vediamo il loro becco no 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 com'è questo forse vabbè ah quello da 500 a 325 però non so bene come funziona soprattutto se sono immediati steam pc steam pc tipo faccio carrello ah ok oggi sono no vabbè non mi fido tantissimo va bene va bene va bene allora tendiamo un pochettino allora va ah mi ha invitato spider si intanto facciamo una partitina se vuoi niente non c'è più va bene si e non avevo visto l'invito ehm perché più che altro stavo cercando di si tiro se vuoi intanto aspettiamo irokami fare la qui eccolo eccolo lì subito con la super macchinina cos'è sta roba va bene va bene dai nell'attesa del buon irokami anche la dodge hai preso ebbè gg abbiamo vinto mamma mia siamo troppo forti abbiamo perso ok allora va bene mmmm è un pochettino di il cavolo di frame i don't like it attenzione grande tiro te fuori ci prova dark buyer vedete zanzare vai tirone grande andè andè avanti non ci arrivo non ci arrivo un po' sotto vai Superparatone Prima clip della giornata Minuto 17 Ah Eh niente sono ancora freddo Deve scusarmi Vai tiro Vai tiro Bella Iiii Aia No Ok Vai che ce l'hai Vai Tutti con la skyline Signori Lo sei? Ok Va Mario Scusa un attimo Io non ho tornato in live Sì no Ha avuto qualche problemino Anche con la webcam Prima avete visto Quindi mostro Penso che stia risolvendo Questo problema qui Adesso Dovrebbe ritornare in live A breve credo Siamo ancora a 0-0 Siamo ancora a 0-0 Vai tiro Dovrebbe Dovrebbe ritornare Sì No Incredibile Seconda parata Doppia parata In questa partita Vai tiro Siamo ancora a 0 Eccoci qua Vai che entro Vai che entro Vai che entro No Vai tiro Vai Yeah Devo mettermi Mannaggia il marker Non mi ricorderò mai Vai Yeah Nice shot Dato che Adesso non riesco A impostare il marker Qui da fermo Mi segno il minuto Per fare la clip Qui non c'è nemmeno Troppo Stream deck Vai tiro Buttala Buttala Ok ci provo Ci provo Ci provo Tirune Yeah Agivment sbloccato Forza signor bubble Ciao feri Eh sono Diciamo Plat Plat Tranne Nelle 3v3 Che sono Diamond 1 Però qui sono Aspetta Nelle Nelle 1v1 Non ho più Rankato Rankato Scorso Sì Sennò Poi non ho più Giocato Nelle 1v1 Nelle 3v3 Come ti dicevo Sì Diamante 1 E nelle 2v2 Dovrei essere Più basso Ma forse Platino 1 Non ricordo Perché io non ci gioco mai Nelle ranked 2v2 Così Ci gioco Con degli amici Adesso stiamo facendo Una partita insieme Tiru Fidato spettatore Attenzione Ci provo Dobbiamo ancora Prendere Skyline Voglio aspettare Jin Partner di stream Ella Tiro Vai Tira avanti Bella Mi ha peccato Vabbè Ormai Anche poco tempo Solo 6 secondi E io sono esploso E lo so Che devo fare Ink Grazie comunque Del support Stiamo felicissimo Di questo Tu messaggio No scherzo Penso stia avendo problemi Con Con Il pc Forse con la webcam Perché stia avendo problemi Con la web Eh immaginavo Sì Eh lo so Lo so E ho capito Che fosse il problema Di webcam Perché L'ha anche detto prima Niente Lo stavo aspettando Nel frattempo Stiamo facendo Delle partitine Qui insieme Al nostro Tiru Vediamo se è scritto Qualcos'altro Però adesso no Va bene Vai Tiru Va bene No Non va più bene Vai tu Vai tu Vai tu Vai tu 1v1 Come solo tu sai fare Se fuori Tutto bene Tutto bene Eeeh Ah Scusa Vai tu Vai tu Sì Maggio Senza discord Non mi trovo bene Perché di solito Le indicazioni Vedo Dirette E niente Un attimo Adesso leggo La canzone De bullet Dici Pronto Eccolo Salve Salve Buon uomo No vabbè Eh no Questo è il bello Della diretta Tutto normale Ma non sai Ma che cazzo Io sto facendo oggi Che cosa No Hai già comprato No ancora Peccato Un paratonissimo Ho venuto 24 Problemi a catena Ma Vabbè Devo fare una clip Con tutta la parata Da non credere Da non credere Da non credere Non sta funzionando niente Cioè Un attimo Inc Adesso non sto riuscendo Proprio a leggere Appena possibile Leggo tra poco Tra l'altro Sto riutilizzando La webcam Di prima Penso che mi sia morta Una porta Della scheda madre Ah Wow Che brutta cosa Qual è possibile Non è che si è sconnessa Non lo so Io attacco la webcam Non la legge Magari si è sconnessa Si è sconnessa male Non lo so No 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 Io c'ho un bordello di fili Da scrivania Perché nel frattempo Per cercare di recuperare La situazione Ho tipo Messo 14 fili diversi Aspetta Arrivo Mannaggia Ok ho capito Oggi devo fare un video Con tutte le parate Si è un sacco di parate Incredibile Attenzione ci prova No Perché Mannaggia Vai Tirù Vai Tirù Eccato Vai Predictato Questo Aggia Ok 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 Affanculo Ma guarda Che rabbia Che rabbia Lo piché tutto Cazzo Botto ancora Lo piché Touch portal Devo applicare Lo overclock Eh due palle Eh guarda Che è una cosa incredibile Una cosa incredibile Da non credere Ok Questo è operativo Questo non va bene Questo È operativo Manca solo rocket Stavo dicendo Secondo te riesco a trovare A quanto più o meno li posso trovare 500 crediti Ti costo io No no Perché c'è il bundle Da 4 euro E qualcosa Ah Giusto Giusto Però la ZSR ce l'ho già Vabbè Non è un problema Alla fine L'importante Secondo te va bene 4 euro O li trovo a meno Da qualche parte No no Anche per Non Aspetta Ti scrivo un messaggio Tu telegram Leggilo Va bene Allora Torniamo al menu principale Ciao Mario Ti ho scritto su telegram Sì Allora Credo che ci risiamo Cioè Che ci siamo Ah sì Non sono dei bullets Sì Non vorrei dirlo Ad una voce troppo alta Va bene Va bene Però ci siamo Ci organizziamo Ok 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 Allora Dicevo che sono salito Un botto in rank Dai Davvero Davvero Mario Buono Buono Quanto sei arrivato Ok Ora ci siamo Siamo rilassati E non credo Sei dark Ti rispondo Vabbè 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 C'erano solo Per pure io Diretiamo Allora E prendo quindi Il rocket pass Direttamente Quello che dicevamo prima Che ci arrivò Come si dice Pelo pelo E mi riservo 50 crediti Praticamente Eh lo so Lo so Ma se vuoi Dico Te li passo io Poi io Li ricomprerò Insomma Poi magari Mi passi I soldi Non so Comunque Visto Tensa fare casini Mi sono messo A prendere un po' di random D3 Dv4 Faccia del cazzo In 2v2 Vediamo Ok Allora ragazzi Io andrei a shoppare Allora Io invece Sì Io pure Vedo di fare un po' Tutte le robe Ma praticamente Il colpo a 2 Mario Quando andremo a fare Le 2v2 Io mi trovo Quelli di divisa 3 Vabbè Vabbè No ci sta Comunque Dovrebbe equilibrare Il match Ovviamente Ci schia Allora Shoppiamo questa cazzo Di skyline Che parto Di culo Mamma mia Allora Io un attimo Sto shoppando Quindi Mi metto La schermata Oh Finalmente In questo momento L'aspetto da una vita Allora C'è il bundle completo Che c'è Vabbè Questa Quando la usi La Pontiac Fiero Non si vede niente Non mi piace quella macchina È particolare Capito È da collezione È da collezione C'è poco da dire Per forza Devo aggiungere fondi Forse lo sai che la Non posso comprare direttamente Senza aggiungere fondi No Devi fare per forza Quel giro La charger Mi piace Però di lato La vedo tanto Tanto lunga Di dietro Non mi fa impazzire Quindi credo Che alla fine Nel shop però Che palle Sì Cazzo Vabbè E che me li faccio I 90 centesimi Che mi restano Su Steam Vendono già che 90 centesimi Bastare No ti li tieni Per i prossimi Eh Non so Allora Perché vabbè Questa qua Per la Pontiac No mi sto godendo Un pochettino Lo shopping In chilling Totale Minchia però La cosa totalmente Nera per la Eh Così Così è bella Così è bella Uh Lo sapevo Che usciva Te l'ho detto Lo sapevo Che usciva La Dicol Originale Quella Dicol Che ti fa La macchina grigia Madonna Che spettacolo Ragazzi Ma di che Stiamo parlando Bellissima Veramente Veramente Bella Poi c'erano Le ruote Che sono pure Montabili Altrove Eh Quelle della Pontiac Sono belle Le ruote Cazzo Sto I on fire Oggi Bella Mario Ok Oppure Ti puoi comprare Semplicemente Questi qua Ah c'è una cosa Free Una Vabbè Può darsi Può darsi Può darsi Può darsi Può darsi Eccomi Ah poi ci sono le cose di Fast and Furious Tipo gli Anthem Allora Vaglia Cosa? No Gli Anthem di Fast and Furious Che è l'Anthem di Tokyo Drift Ah Cazzo Sentiamo Eppure la Nitta Anthem Di questo Di quale Di quale Questo Very Rare Furious Di quale Di quale film Non mi ricordo Mamma mia Questa Come fai a non prenderla No Samus Ce l'abbiamo fatta Bastardi Non so se si è arrivato adesso Se si è anche arrivato prima Ma è successo un bordello Allora La webcam non funzionava bene L'ho sistemata E è arrivato un blackout Nel paese mio Di Dark Sì E è arrivato un blackout Nel paese mio di Dark Siamo caduti tutti Siamo caduti tutti Ho riacceso il computer Ed è partito Un aggiornamento Di Windows Ha dovuto finire L'aggiornamento Ho riavviato il computer Subito dopo Perché sempre riavviare il computer Dopo gli aggiornamenti di Windows La webcam Non me la leggeva più Ho dovuto Staccarla E riattaccarla Mi sono reso conto Che forse si è bruciata Una presa Della scheda madre Allora Ho dovuto Attaccare A trovare Un'altra prolunga In casa USB Perché la mia Costa con la prolunga La mia webcam Purtroppo Infatti si vede Un po' di disturbo Stasera Ho collegato Quella cazzo di prolunga Sono riuscito A ricollegare La webcam Però Streamlabs Non me la leggeva Ho dovuto cancellare La question di Streamlabs Ho dovuto riaprire Streamlabs E ricollegare Tutti gli account Ripristinare gli overlay Che fortunatamente È stato semplice A riaggiungere la webcam Sì Ciao Xamux Madonna mia È un bordello Xamux Un bordello Polivalente Scusami Una domanda così Del nulla Ma Questa Skyline Adesso La possibilità Ril upgrade La vernice Soltanto Cioè se tu compri Quella Se tu compri La vernice Solo a 300 Tu puoi applicare Quella vernice A tutte le macchine Praticamente Però No 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 Ah quindi comunque Ah Eh ma Ma se io adesso Ci entro Dice che Ce l'ho già In senso Non l'ho comprata Con i 350 Mi dice che c'è Già l'item Infatti Mi sono rimasti I 350 crediti Non mi direi Che hai comprato quella No ho comprato la macchina A mille crediti Oh Quella Eh Però sotto C'è La vernice A 300 crediti No 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 Quella è solo per chi L'aveva già shoppata Nel passato Ok Ecco Questo è lo Capito Noi ce l'abbiamo Perfetto 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 Quindi comunque Adesso mi sono rimasti 300 crediti Buono Eh sì Eh sì Perché Perché comunque Non ci arrivavo A mille Devo farlo per forza Ok Abbiamo shoppato Andiamo a selezionare Ah aspetta Aspetta Supporto a un creatore Assolutamente Qual è il supporto Di gladiator Che non me lo ricordo Eh gladiator e basta Così Chi mi sa dire Non lo so ragazzi Gladiator.rl A posto Gladone Per te Per te Allora Oh E cos'è che stai facendo Non ho capito Sì Cazzo Sì Dopo tanti mesi Che la voglio Sta cazzo Di macchina Il supporto Il supporto Codice creatore Praticamente È una roba Che tu Metti questo supporto qui Ogni volta che tu acquisti Con il codice Di qualcun altro Questo qualcun altro Ne beneficia Ricevendo Non so che tipo Di introidi Il 5% Delle spese Grazie mille Dalla regia Eh sì Quindi Io generalmente Lo faccio A gladiator E a lauridis Ogni giorno Lo farò anche Per giozi Quindi Siamo tutti contenti Allora Ragazzi È il momento E quindi Scusami Quella vernice Adesso Dove la trovo Tra le vernici Una volta che selezioni L'auto Che metterò Sì La sto cercando Guarda ragazzi Dove sei Dove sei Finchè non ti vedo Ecco Hola Ragazzi È arrivata Ce l'ho La possiedo Finalmente Mamma mia Ecco Real life Si chiama Ragazzi Ok Allora Come dico Ma che cazzo Ma non l'ho selezionato Scusami Hola Come dico Posso metterci Quello che cazzo Vuoi Eh no Boost È veramente Fico Il fatto che Io su sta macchina Me la posso mettere Interstellar Che Dio santo Guarda quanto è bello Devo mettergli Un bel boost Però Scusa Anche due bold Non è male Anche se sta scritta Di fianco Turing Veramente Mi sa di Un boost Realista Devo mettergli Aspetta Oh Clean cut Però che bello C'è anche clean cut Che praticamente Non c'ha niente È pulita E te la puoi fare Come piace a me Per esempio Però Noi siamo Ovviamente Amanti Un po' Grigio Porco Due Che bella E clutch Che schifo Puttano In serie Allora Se io metto Real life Chiaramente I colori Non li posso Cambiare Quindi Per caso Non sarebbe Regolari Ah Sarebbe Ok Real life Non real Scusami Real life Però ho visto Un ragazzo Che se non sbaglio Sulla sua macchina Riusciva a cambiare Le vernici Riusciva a cambiare Le vernici E Cazzo Che bella No Che schifo Ginny In vita Mi faccio vedere Come ce l'ho Ah certo Aspetta Che Allora Questo lo metto così Vediamo se te la fai Come le faccio io Solitamente E non ti vedo Però Chissà Hai cambiato il nome Sei Sam The Man Ah ok Scusami 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 Tiro mi invita Alla sua party Ma le ruote Sono quelle Che ci sono già Predefinite Quindi devi selezionare Allora Tiro No no Le puoi mettere Le puoi cambiare Tiro ovviamente No dico Quelle predefinite Sono le selezionate Della macchina Giusto Quelle predefinite Sono quelle No Sono le OM Che sono le ruote In base di rocket In vita pure Allora ti invito Sai Dark Nel frattempo Ti facciamo il gran team Fast and Furious Sto cercando le ruote Se le trovo Lui le ha comprate tutte Ah Leonardo Come cazzo hai fatto a cambiare i colori Xamux Madò che squadrone Bella Eh beh scusa Una volta che siamo qui Guardate come flexa Tiro Guardate come flexa Tiro Guardate come flexa Tiro Guardate 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 come sta flexando Guardate Che si è comprati Tutto il bundle Non mi piace Non mi piace Tutto il bundle Huck No mi devi dire come hai fatto Ah dicevo Fatemi trovarse ruote Voglio anche io Gli hack Sik Ciao ciao Eh si Facciamo delle privatine Tranquille Perché no Che dici Dark No A te va bene Giusto Sì Ecco le trovate E' facile non mettere adesivo real Ah La lasci base Giusto La lasci base Scusami Non ci avevo pensato Quindi metti tipo Niente Oh Ok Goloso L'EDS Sik Underscore 255 Ok Sik Underscore 255 Dovrei Averti invitato Easy 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 Pero non posso parlare No tranquillo Tanto su Discord Sik Ne approfitto Sono con Darkbuyer Che è un altro streamer Quindi sto con lui Fondamentalmente Capito Sto solamente con lui Per adesso Quindi tranquillo Non c'è problema Se vuoi passare a lasciare il follow Tra l'altro puoi Fare una roba Punto esclamativo Multi E si apre il multi stream Capito Se volessi Vedere entrambi Contemporaneamente Per esempio Sì Dovrebbe funzionare ancora Sì Dovrebbe funzionare ancora Ciao Turi Buonasera L'acquisto è stato fatto Non so se hai visto il bordello Che è successo prima Ma Ti lascio Cioè Dopo ti racconto Perché sennò mi ripeto Troppo Troppo spesso Ma dopo ti racconto Eh sì La qui si è stato fatto Guarda Guarda Turi Guarda Guarda Turi Guarda Turi Guarda Guarda Turi Madonna della Madonna Mamma mia Come si muove E' Cristiano Ronaldo Questa macchina Allora E' bellissima E' bellissima Allora Non me la personalizzo Due secondi E comunque è bellissima Xamux Ma l'hai fatta Io la farò La farò Il problema Adesso è che Come dire Come la faccio Ci sono 350 crediti Non so se la sceglie O comprare Mitteri Yaki Boyz Eh Eh Problema Vabbè dai Penso che rilascia Si sa mai Sono pure io Con la GTR Non domani La mia nonna è amarrata Non è vero Aspetta Ma l'hai cambiata Quella di prima No è bellissima Bellissima Così viola È bellissima Guarda Guarda come sta Flexando i colori Guarda Xamux Guarda E allora Assolutamente La mia main La mia main Vernice È La Metallic Flake Che è assolutamente Questa Vabbè Mi sa che Oggi Xamux Si è fatto un bel Po' di soldi Eh si Ma io L'avevo detto No Da parte di tutti Nintendo C'è Sì 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 Finchia Se è bella Così Vediamo Vabbè La devo studiare per bene Però chiaramente Magari la faccio Off stream Madonna mia Se è bella Così Voglio farla come Il Nintendo DS No C'è un controller Della Nintendo La versione Giapponese Questo È il viola Questo È il viola Del Nintendo Vedendo Ah ho capito Quale dici Bellissima Bellissima Mi piace un sacco Guardiamo la tua Sì sì L'ho vista la tua Ehm E la aspetta Ah non la vedo la tua Non sei tu perché Vedo solamente Quattro auto Ehm Vedo solamente Quattro auto SIC Quindi purtroppo Non riesco a vedere La tua Ehm La vedremo in partita Non ti preoccupare La vedremo in partita Forbio magari Non è la stessa cosa Però magari dopo Ci scambiamo Di posto in Qua si chiama qua Dentro la lobby Dentro il menu Tutta gialla e nera Che ficata Ci sta gialla e nera Sai che Oro Uh No Oro no Troppo da marro Oro Generalmente me la faccio Sempre rosa Ah andiamo rosa e grigio Anche qua Bella pulita Ma peccato che non ci sono I neon Eh vabbè Poi puoi troppo Ma che Sai che forse In realtà c'è un modo Per metterli Diritto Come Ehm Forse con la bucket Si possono mettere Con delle mode Qua voglio delle Ruote serie Tipo 10 O le 10 oro No non ci stanno Le 10 oro Le 10 stanno benissimo Pure semplicemente Mettiamo quella Della skyline E vaffanculo Esatto Eh si esatto Esatto Tipo la classica Classica Ah ma mi hai sbloccato Anche quella Della fiero Perché mi ha dato anche Quella della fiero Perché Ho sentito fiero Ok Non sono nere Ma mi ha dato Come boost Mettiamo il nostro caro O lo standard viola Oppure il termico viola Che non capirò mai Perché lo mette Io ho messo il lanciafiamma Faffanculo Bellissimo Ma perché il termico viola Dove sta il termico viola Cioè ogni volta Devo scrivere Termic Ah forse preferito Quindi si finito su E' così infatti Farò così Lo metterò Questo qua Lo metterò Viola E faccio il contrario Lo metto rosa Sulla macchina Non so se ci sta A dire la verità Ci sta viola Rosa scusate Scusate Rosa ci sta Ma secondo te Se accendo il monitor Quindi non esplode tutto Perché io Inizialmente pensavo Fosse per il monitor mio No io pensavo Fosse per il ventilatore Eh perché appunto Dato che c'erano Tre monitor accesi E il ventilatore Ho detto ma Forse è stato per quello No perché ho comprato Un ventilatore nuovo cinese Ho detto non è che è quello Che mi ha fatto saltare il mondo Vabbè dai Meglio così Ok 3 4 5 Si fanno a 3 di 2 Tranquillamente Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quella del primo film era la Supra comunque, sì. Però, eh sì, era l'arancione. Arancione del primo film era la Supra. Togliata la Supra, sì. Eh sì, sì. Allora la Supra, bella la Supra, cazzo. Speriamo che mettono pure quella prima o poi. Va bene, allora, andiamo. Poi manca la Mazda RX8. Ci sarei anch'io, ma se entro su tutte ste macchine, vabbè, che cazzo cambia? Allora, private match, create private match, e via. Comunque... Mamma mia, non l'ho mai trovata in vita mia. Devo rivedermi gli ultimi film per prepararmi all'uscita del film che stai per riuscire appunto al cinema. Fate auto tutti quanti? Ma siamo... Siamo il rombo. Cioè, vabbè, l'ho già fatto questa battuta, basta. Sì, basta, basta. Ma Radona fa sempre il curioso, certo. Dexter. A3V1? No, Dexter. Va bene. Boost Unlimited. Weehee! Sono così forte? Oh, ma è so. Io so scarso, disse. E' partito col botto. Eh, ma io ero da solo, non sapevo cosa fare. Ah, è ritardo, no? Eh sì, ero da solo, 3V1. 3V1? Perché siamo 3V1? Adesso siamo 3V2, vabbè. Ok, è andato tiro di là. Ti saluta, Dexter. Ciao, Dexter. Dexter, mi sono morso la lingua nel mio tempo che lo dicevo. Dexter. Ciao, Belli. Oh, mamma mia, oh. Madonna mia. Samux, dove stai? Che cattiva che è. Che angoli tiene st'auto? Dexter. Che angoli tiene quest'auto? 13 secondi. Bellissima nera, gialla e nera. Mi piace un sacco. Sono andato a prendere il boost e c'è boost infinito. Guarda come gira. Che suone. Madonna mia, che tocchettino. Miau. Comunque, effettivamente, c'è i colori di... Oh, addio, è entrato Xamux, è la fine. E' direttamente, forno, è una 3V2. Bene, Dexter. Tutto benissimo, grazie. Si diverte un po'. Insomma, abbiamo shoppato sta macchinina che aspettavamo praticamente da mesi. E quindi, eccoci qua. La macchina è il sogno di tutti, praticamente, gli automobilisti degli anni 2000. Madonna mia. No! Cazzo, che bello, sto guidando la Skyline tutta la merda. Sì, sì, ci so, sì, ci so. Aia. Guarda, 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 i redirect sono semplicissimi. Ma mi trovo una meraviglia con sta macchina, veramente. E' bellissima. Ah. Sì. Eh, sì, il tuo progetti è fantastico. Bellissimo. Eh, beh, sono soliti di valore, sì, per forza. Ma lo sapevo io, io guardavo il pallone, però sentivo l'avora di tipo. C'è la miseria. Vai, tirone. Che bastardo. Che bastardo, signori. E' un bastardone nato, quello. La Civic. Eh, la Civic. Kataratarataratarataratarat. La Lancer Evo. Mado. La Mitsubishi, sì, pure. Madonna. Ti ha rifasito che Drift. Macchinone. Ciao Mario, sì siamo in privata Ci manca uno se vuoi venire Eeeh, tiro Tiro lo pallone Pensa, tiro lo pallone Passa, passa, SIG, passa Dai, vieni Mario Se ci sei ti invito Tiro lo pallone Attenzione, arriva Mario Spawna, spawna subito Mario, ci degnano Cosa? No Cazzo No Ah, Dark Byer, attenzione Cerca di poggiarla Cato Dabba, cato Vai, tiro No Sì, no Che cazzo è successo? Io non ce l'ho però E vabbè, pazienza Cazzo è cazzo da ne vodchi Tu vai la mascot Ok Ok Oh scusami Mario Eh vabbè, certo Certo Motore per forza Ma comunque le Honda Sono sempre state macchine piuttosto GG E soprattutto le moto Madonna mia Che casino Quindi a livello di moto Che bordello Motore in generale Credo che non si possa Oh ma io Niente, ho sbagliato La macchina è nuova Porca troia No Che palle Non avevo il Il Sony Super Sonic Legend Esatto Vai Mamma mia L'ho toccata proprio quel poco Che basta per togliere Dalle ruote Madonna mia Volevo la via Ma si riuscì Oddio No Vabbè Yes Guarda Come flexiamo Con le nuove Skylade Guarda Ah Anche io Io adoro Quella Sì Ma soprattutto Quella Non con la nuova nuova Non vale Tu mi hai scoppiato In libera Anzi in privata Entro su DS O non parlo E allora Dovremmo spostarci Perché Avete segnato Un gol a Dark Da fermi Ah va bene Ti scoppio All'inizio E l'ho dimenticato E Sik Allora Aspetta poco poco Dobbiamo spostarci Di server a Dark Perché se no Sik non riesce ad entrare Quindi andiamo sul tuo Andiamo sul mio Sì È differente E allora Dimmi tu No E Come vuoi Dai Allora Spostiamoci Il mio Dai Ah il tuo sarebbe quale Quello lì con Goku Che Prego il signore Ogni giorno Che venga cambiata Quell'immagine Poi devo chiedere Se può cambiare Vabbè Vabbè andiamo Io A manina Io non sono d'accordo Con questo server Ah? Non sono d'accordo Che non ho i poteri Su questo server AhahahCho Oh Vaccino Vaccino Con Xamux Sione Cioè Quindi La rivincita Per poco settings, sts eh, si no, vabbè, ma che cazzo allora, punto esclamativo discord e puoi entrare ah no, già ce l'hai discord siamo nella stanza lobby lobby no, cazzo, che stupido oh merda vai vai, Xamux, si dica, Dexter grazie no, madonna mia sei entrato, Sik? D&D, si certo che conosco D&D se intendi è la stessa cosa che intendo io la ongensendragon la ongensendragon dai, io che posso parlare da alta voce, addirittura si, si, certo, certo, io ho conosco ma, giusto, non c'è il bus ci giochiamo anzi, in realtà ti dirò stiamo giocando Pathfinder però è uguale a proposito, un sacco di tempo che non giochiamo sono in pubblica uno vieni in lobby uno che ci siamo che restiamo lì ah, perfetto ah, perfetto, bella tiro salve salve uno che la metta oh mamma mia ti sento finalmente ti metta dentro ah eh, finalmente si sente che cazzo conosci il canale no, non lo conosco Pintail no, credo di no oddio, forse me ne hanno parlato però non so se lo conosco Pintail, perché già lo senti da stasera? eh, infatti forse Fresh ce l'ha detto ha fatto una serie su 2D eh, sì mi sembra che sono loro sì, sì, loro sono, sì sì, ce l'hanno parlato sì però non sono andato a recuperarli ancora ma non riesco a fare and quando lo storia sì, sì, ho capito ho capito quali sono ah, sì, ho capito ho capito quelli che ci ha spiegato Fresh sì, sì, ma non li seguo troppo lunga come cosa eh, vabbè madonna che angolo ma scusate una cosa io vedo che siamo in 4 blu com'è possibile? in 4 blu? vedo 4 con la scritta blu scusami, chi sei? non è possibile siamo 3 contro 3 ok, ok ma no, non mi sono distratto va bene, va bene un episodio durano 30 minuti allora 30 minuti allora che immagine posso mettere quindi come disco ah, no, sì quella era una battuta qualsiasi no, ma la posso cambiare io l'ho messa allora quella immagine è nata che non si può che andare a mettere che cazzo immagine di mettere sì, ma è ovvio in quel momento mi stavo guardando il team di Broly di Goku madonna mia mettino una figa allora di Broly di Goku no, no aspetta ma ne mettiamo una a terra no, scherziamo sì una palla di Rocket League che cazzo ne so il nome non ho avuto nemmeno molta contagia allora io metterei una Skyline ma mi attivo un po' il ah dai dai che sberle dirò sta macchina madonna bella sì, è vero hai perso la vista forse sì sicuramente ha perso ha momentaneamente perso la vista come la mia webcam no io mi confondo perché sono blu ecco perché mi confondo eh sì pazzo quindi non vedi i nomi vedi i pupi ok, i pupi le macchine sì perciò dicevo ma io pensavo di storia allo spot era blu infatti inizialmente ma che cazzo oh no arriva 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 come mi ha saltato quello mi ha distrutto va bene beh, la Mario eh, la Mario si è messo adesivo uno bold forse il discorso è iniziato dalla loro serie eh, devo darci un'occhiata perché sono sicuramente molto bravi ne ho sentito parlare come ti dicevo devo darci un'occhiata no sì no questo giorno in dieci episodi ma no la voglia ma ok, andate ma quello che mi chiedevo no, peccato c'è questa serie la fanno narrando il gioco praticamente amore che succede? bella 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 sic grande texter spettacolo spettacolo eh, da seguire perché comunque è bella è bella iniziativa no madonna mia no, guarda quel cazzo di tiro guarda quel cazzo di tiro lo pallone aliak aliak eh niente che pazzo quell'altro no, è fuori dai capo di bagnone no, me l'ho fottuto la palla brugnone 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 il mario mario, mario è più semplice bella, bella troppo, troppo divertente ah, che bella sta skydane però mi hai fatto vedere voglia di prendere la charger pure, mannaggia a te tiro quella di Toretto quella di Toretto eh, quella di Toretto ah, ok io la tengo chiamata Toretto non sai come chiamata Charger ah, ok, ok beh, ci sta ne tengo due no, tutte, tutte e tre eh, sì, no dico sì, la tiene tutte quante l'altra non mi ispira perché è proprio l'altra è per cazzeggio pure esatto l'altra è per proprio lo smartphone cioè, per fare lo smartphone fino la Dodge è carina la Dodge però è carina da vedere nel film si, mario ha preso il pack grosso ah, scusa ha preso il pack quello gigante quella madonna è la macchina di Toretto si impenna come come nel film eh, TND è bello eh, TND è bello ti prende perché se ti piacciono che i giochi lì vado ti coinvolge parecchio uh, scusate eh eh sì ha fatto lo speed eh vabbè col tour ben finito speed o no allora uh, cazzo vai, 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 vai eh, adesso ci arriva Tiro che l'alza a campanile ah, dove devo andare a prenderla, guarda eh, in partita queste cose servono a far finire il boost esatto perché me lo dice senti, mo parto oh, scusami, Mario se posso salire a finire il boost magari mi sto fegando sotto esatto arrivi che sei morto hey hey no, no la mostra non mi è piaciuta hey ok ok no, non me l'aspettavo no, no vai, vai, Mario open, open difendo io pure tutto il bel finito voglia ah, sì non c'è manco bisogno di fliccare non c'è che personaggio fare eh eh, lì ovviamente dipende da te come regalo intendi razza classica quelle robe lì questo è un elfo ranger andavo a cuore sempre al nostro vado io pure sono andato al nostro adesso spesso sì sì Mario buona madonna e niente e non entra però entra lo seguito guarda come me l'ho seguito vabbè tu sei un assassino che pazza che pazza signore vabbè è folle questo questo cazzo di tiro lupallone è folle ma giochi anche a calcio a tocco io da un po' che non gioco diciamo da tutta la quarantena ah vabbè quelle sì un po' tutti ne abbiamo ripreso adesso questi giorni dovevo andare a giocare martedì e mi hanno abito una vita classico classicone almeno ci essero prima così poi si trova soluzioni no all'ultimo secondo no io non posso eh sì sempre sei classico classico salentino bidona bidonino dimmi che entra dimmi che entra no palle scusa se non lo vedi che c'è tiro là dietro no perché sono esploso no ma guarda non ti assomiglia da un altro ink a meno a meno io ho la mia voce sì oh cazzo niente è morto eh guide quindi consiglio ci sono i dungeon così come cazzo si chiama i manuali però potresti trovare tranquillamente qualche video su youtube secondo me ti aiutano loro ne erano fatti sicuramente qualcuno comunque per la guida ti consiglio di scaricarti il manuale dnd lì ci sono tutte le razze le classi e tutto o perlomeno rivolgiti al dungeon master quello che sta organizzando la vostra campagna mannaggia si bello si che cecchino grazie a caca del follow benvenuto ciao ai 500 crediti ti prego no li ho spesi adesso mi dispiace li ho spesi per comprare la skyline detto tra noi poi non penso che comunque sia insomma così se vuole accedere io gli ho regalo 1600 rivolgiti rivolgiti allora al nostro tiro o irokami irokami hai 500 grill attenzione ci prova comunque ink chiedeva prima se è a dark la voce di tiru ti sembra quella di matteo cocco no pochissimo ho bruciato molto più maturo tiro combinato no c'ero minchia guarda che tiro combinato va il tiro della tigra oddio vendo vendo fennec a 400 qualcuno sarebbe interessato la fennec a 400 crediti minchia così poco scesa che fennec però ha così poco scesa no vabbè la base la base no ti dirò io no non sono interessato perché ce l'ho la fennec gli altri anche ce l'hanno qui quindi non credo c'è c'è irokami qui Jin anche lui sta in live una decina credo di fennec cosa del genere ah si ho tanti colori no ti ringrazio grazie mille davvero ma non non mi servirei ti dirò la fennec non è che mi piace tantissimo infatti l'ho anche trovata per fortuna che culo le casse quindi sto a posto così oh scusami oh no non è vero bello 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 il tiro combinato parte 2 il tiro combinato parte 2 guarda 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 ma che cazzo è eh visto frontale non sembra tanto e qua credevo fosse fuori ma per il K300 dicevo qualcuno interessato no grazie grazie mille comunque Kaka o Kaka insomma la seconda no tira Sam tira dai 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 annaggia non mi finisce questa pesanto no tranquillo mi dispegno che purtroppo non ce li ho perché li ho appena spesi poco fa vuolendo insomma annaggia quel cazzo di tiro ooooh ooooh di ruincione annagcialo ah no che giro porca broia adesso dobbiamo adesso dobbiamo giocare insieme nooo che spettacolo perfetto come parte dal semaforo esatto guarda mi sa me la compro ci sta comunque per pensare è bella comunque tutta nera è bella gli altri colori abbiamo bel dai dai insieme insieme la squadra sono lentina insieme adesso vai 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 adesso tra di noi parliamo solo di Aletso solo di Aletso solo di Aletso chi è che l'ha riscattato ah non c'è no lo devo ancora metterlo lo sta riscattando adesso lui quindi siamo a posto Inc ti saluta Inc eh ti capisco oh ciao Inc ti capisco come si chiama il fratello Stefano 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 ah 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 un segno tipico commento sale in tiro ah 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 nini 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 eccolo nooo ma no 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 mi sa che non l'ha accolta questa tiru 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 eh non lo so cazzo cazzo che vuoi cazzo cazzo yu yu no no ah non sta bene va nini nini no vabbè basta lasciamo perdere esatto oh nooo ah donna mia premendo le mani sopra la pizza sopra la pizza sopra la pizza ehi sto cazzo non l'idea tu ce ne gusti comunque è un po' illegale giocare con il turbo infinito qua eh vabbè è molto divertentissimo si si vai ti spari dall'altra parte della mappa volando esatto esatto è quello che sto facendo vai dark vai dark guarda guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì signori no in realtà no guarda lì però eh però no grazie per adesso no poi magari se non li vendi poi magari posso vedere se qualcuno è interessato insomma ne ho 48k what ah si si ho visto che ne hai tantissimi e l'altro giorno in live ero entrato un attimino quando sono riuscito a scrivere però mi ero ero arrivato proprio nel momento in cui praticamente avevi l'inventario aperto io ho visto che devi l'ira di dio siiii siiii va bene dai curalo allora magari ti scrivo per domani nel caso va bene ecco 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 grazie un po' io mi sono distratto non ho visto un po' che schia bella comunque guarda la skyline piammande sabbava la sky a sabbava porco due chi è che mi ha fatto salta in aria sfonda sfonda mi ha fatto salta in aria mio fratello porco giuda in una polpetta minchia davvero ci sta tantissimo parecchio ottimissimo io che ce l'avevo già sii tutte per me like ammazza hai fatto il like ammazza guarda 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 che qualità di like ammazza guarda come si è alzato la macchina di da lì il like ammazza che bello 10k porca eh vabbè oggi soldini soldoni ci arrivo niente ci è arrivato prima lui ma lui è brug oddio corri 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 eh si 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 no sono per chi compra oh caso che faccio ok anche per te comunque chiaramente si buona zi voglio me sta palla voglio porca sangue di usciuta non so scusami cazzo ma lui non è madonna io sto confondendo quelli che hanno l'adesivo grigio li confondo ma come abituiamo l'occhio eh si abituiamo l'occhio perchè mo ci sta che eh zino aspetta aspetta bello bello bella zi guarda qua che corpo qua non credo comunque devo chiedere al di fuori curalo perchè qua siamo tutti a posto praticamente a livello a livello di cosa di skyline di crediti ah non c'è qualcuno che ve lo può prestare perché gli darò dice ti ripeto io purtroppo non ce li ho proprio materialmente e allora è contatta cura come si chiama come si chiama cura 82 r no 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 cura come si chiama questo ragazzo fa che sta allora con la k scritta con la k kk non so il giocatore facciamo 82 r m m m m e vabbè buonanotte però aspetta aspetta kaka dimmi una cosa come stai il tuo id di epic o di steam che sia così in caso ti aggiungono lì mamma mia ecco qua solo per pc dice solo per pc perché c'è un ragazzo nella live di gin che potrebbe essere interessato no che altro c'ha crediti c'ha crediti ah c'ha crediti ah però di epic kakao 82 rm play pc kakao 82 rm oh scudami ti ho visto proprio neanche io mi ho visto no hai visto la palla però ora sono da play vai gin vai gin vai gin vai gin vai gin no arrivo no l'avevo preso no siccome mi aspettavo no dai che entro dai che entro no oddio aspetta orco d'azio aspetta a mezzo vai 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 a mezzo mammavia mamma mia se passi dalla live di dark buyer si forse c'è un tipo che potrebbe essere interessato però dovresti andare tipo no Se vuoi aggiungerlo, Kakao82RM Ha detto che è Play? Ha detto, allora, ID Epic Kakao82 e Play PC Poi ha detto, ora però è da Play Però credo che abbia comunque una conta Eh, se li sposti su PC, forse è riuscito a fare qualche roba Vedi un po' Vedi un po' Ma SICK c'è? Non c'è più SICK? È uscito? Sì, è andato fuori Sì, è andato a cambiare macchina Che non è abbandonato il video, lui E infatti non è abbandonato il party No, sta allestando la Skyline No, dai Ci posso credere No Eccole qua È arrivato Vi dico che macchina è No, no, è sempre quella Giallo e nero Ho sentito che la mia Devo andare a punto esclamativo multi E ti ritrovi praticamente la multi stream Che sto facendo con Dark Ok Quindi Hai praticamente Lo raggiungi da lì Lo raggiungi da lì Easy, proprio Dark Buyer Quattro Xamux Eh, per sbaglio Se c'è stessa roba No, cazzo Ci sono Era collo qui Sto Non ho visto Ma dove sento la stessa stecca? Oh, scusami Scusami, sick Lo giuro che non l'ho fatta apposta Ok, tranquillo Adesso posso arrivare, ragazzi Direttamente qui in chat Se volete scrivere Ehi Ai 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 Vissicato occhio Eh, brugnone Eh, come? Ma sta bene di grugghi No, come? Chi? Chi sta facendo male a cosa? No Ah, cazzo Solo volevo toccare Guarda, guarda Scrivetemi pure Tesoro, dimmi tutto Io mi dissocio Da, 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 da Tutto Cuorillino verde Ori, oh Oh, ne Ori, oh Nana, oh, ri Ori, oh, Nana, oh, ri Vai Mannaggia, vado sempre a prendere il boost Dopo di già sette partite Ancora vado a prendere il boost Raga, nooo Troppo boost Esatto Boost addicted Eh Stai andando a dormire? Eh, ok, allora Tempo che finisce sta partita E ti mando E ti scrivo Uh Niente Dark buyer l'ha pulita Na, na, na Oh, che è un fake Brucia Ok Nooo Eh, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ah Nooo Ah, no, hai segnato te Ok, ok Dove l'ho vissi segnato io Guarda qui come te l'ho poggiata Guarda, va Allora Come me l'hampuzzata Scappa la ninja Vai Antoine Sto cazzo De nos Annaggia la morte Incredibile No Porca troia In due l'abbiamo missato Prevatevi Angu de trono Ed è Nooo Beh, squagliati Ah Imagine No No Ti squagliare Eeeh Per un meno Comore Fugno No, no Quanta wish Guarda Eh, sì, sì Oddio Cura Non lo so Forse c'è stato un misunderstanding Non saprei Vai Non voleva comprare i credi Quello Eh Io cerco C'è piaciuto Vendo blocchi Deve una coppa E 5 euro Dar più a lui Sì, sono io Sì, raga Era cura Cura Sì, sì, sì No, tipo Il tipo Il ragazzo Non gli servivano Mi servivano i crediti Mi servivano i crediti Ma non la fennec Eh E mi servivano i crediti Lo so, sì A cura l'amica serve la fennec Cura il penso che le spacci le fennec E allora credo che Quello lì aveva bisogno dei crediti Dei crediti Eeeh E da più vita Cura lì Cura il c'è i crediti Boom Eh, e quindi? E quindi questo E quindi sto ragazzo Può comprare i crediti No? Dico Eh, punto No No Non si fa Non si fa A me servivano i crediti Ma lui vende I crediti Eh, ma Vabbè Che vuole che li regali Non ho capito Eh, appunto Cioè Boh Vabbè Da gente stanchi Non lo so Non è che te li può regalare Credi Grazie Grazie Mario Oh cazzo Ma 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 perché me l'hai saltato Perché me Perché mi hai saltato Sì, ci penso da sola Ma ancora? No Parcuccio Ma che da scontro Sto asciugando Correndo Oh Bello Assist comunque ovunque Tutti i 5 Tutti i 5 Ho fatto assist No, io pensavo Adesso qualcosa E niente Cura Se sei ancora qui Purtroppo Il ragazzo Vuole i crediti Free Ahimè Quindi niente No, cura che sta qua Stanno parlando direttamente con loro Cioè Tra loro stanno parlando No, raga Quel Mario Guarda che tiro mi sta uscendo Dimmi che me lo mostra tutto Per favore Beh ma sta squadra è illegale comunque Guarda Porco giulo Cioè Avere Avere insieme Vabbè Vabbè Cura Lascia perdere Vabbè Vabbè Avere Avere tiro E avere tiro E Mario Nella stessa squadra Non è illegale Guarda Dark Come si è spaventato No Mi sono spostato Perché c'era lui Ehm Sono Sì anche andato Sulla palla L'avrei preso Eh appunto Cura lo so Lo so perfettamente Ci mancherebbe Niente Misunderstanding Rip Vabbè Fa niente Ti ripeto Caca è difficile Ovviamente Trovare Impossibile Trovare gente Che ti regala Credit E adesso È anche difficile Trovarli in generale A questo punto Per come Di cerchi punter Xamu Che guolo Xamu Hanno fatto Il Il Eh sì Oddio Madonna Bella sta canzone Non so che non lo so Se la con Xamu Ah io ho 300 crediti Mi so che me li tengo Magari non mi batto Se qual'è la Fennec Che vado Sì appunto Ci sta Da subito Subito In due secondi La vende Si Ho capito che io non li vuoi gratis Ma tu Vuoi Qualcosa che magari In questo caso Non poteva darti cura Oh Ci provo No E' ritorno Ma caz'u Oh 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 S'engu de l'arte Oh Oh Hey no peccato che cazzo però non capisci che bella però è troppo devi comprartela secondo me eh ci sta no però è hitbox dominus non so se mi trovo ma aspettate alberto scrivere un attimo un messaggio comunque dice cura aspettate nel tuo amico streamer che mi stava offrendo una fennec per i crediti eh perciò dico la fennec si si no appunto si che è il problema non si serve la fennec non si serve per l'altro ne ha 10 milioni per quello ti dico caca a lui non serve la fennec quello intendevo facciamo una tandem drift tutti con la skyline cos'è la tandem drift? esatto boh che non nemmeno so comunque l'hitbox della skyline è rotta è ibrida ma che significa rotta? mettiti in verticale o col muso con il culo vedi che ti entra tutto nel pavimento nel culo no 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 mai sia cioè poi sono busti eh creda di dio io sono un attimo fermo eh tutto nel pavimento ti entra però aspetta che sei un attimo fermo adesso controllo un drift tutti insieme un drift tutti insieme uno dietro l'altra che significa? cioè in che senso? vabbè fast and furious dobbiamo driftare che cazzo un tandem drift tandem drift un drift insieme lo sai che non so minimamente che cosa stai parlando? no 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 c'è non me la sto neanche immaginando la cosa forse me la sto immaginando dark illegale dice no come è legale voi l'avete fatto così con me prima stronzi che cosa hai fatto? non ho visto ho segnato quando? ah prima adesso ero un attimo ero un attimo fermo eh c'erano altre due persone voglio dire eh allora vediamo la questa hitbox vabbè la parte dietro entra un po' toglila toglila no entra entra un bel po' un bel po' la parte davanti ah è brù la parte davanti entra entra ah si non c'è male insomma non eccessivamente però invece la mia c'è questa qua è abbastanza si è abbastanza netto quindi lo sto capendo così questo tandem praticamente pare che devi mettere dice uno dietro all'altro beh e devi driftare però onestamente non è io ho capito ma driftare è inteso con l'inquadrato il freno a mano cioè dovrebbe essere un trenino se ho capito giusto però non ho capito che si fa poi niente si fa appunto è una coreografia aspetta che sta scrivendo aspetta che sta scrivendo lo insegniamo tocco ha capito proviamo non so come come funziona la cosa cioè non so cosa aspettarmi da questo movimento vabbè proviamoci andiamo in privata cioè senso senza tempo perché se lo vuoi scade il tempo e li facciamo oddio orcribio oddio oddio madonna nonna che bello premere il busto all'infinito spammare busto no non è entrato e va bene vai sì bravo zio no madonna e chi cazzo è xamux madonna xamux calmati gesù bello ma quella no sì che ha fatto tipo un giro del mondo sul pallone di 80 giorni no che cosa hai fatto che cosa hai fatto clip va bene porco tiro il pallone ma tu sei tu sei un pazzo sgravato non mi fa la clip cazzo l'altretta me lo segno io che l'hai fatta me l'ho segnato giusto alt z è disattivato di bono veloce 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 aah eh no vabbè quella vabbè di cazzo tua vabbè però puoi recuperarti a live vabbè vabbè intanto ho messo il marker poi te la salvo via 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 che tasto ho messo per salvare il replay quella cosa che vieni premuto lo shadow replay sì lo shadow replay di nvidia penso no il salve replay anche del gioco ah sì 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 ci sto allora salve replay share ok perfetto fatto perché voglio rivederla bene che comunque ho tirato su di lui però eh sì ha tirato con la punta proprio su di lui e se è finciata minchia ok l'altra parte della mappa mannaggia quel dark c'è quello pinky comunque il grigio perfetto che volevo fare io è esattamente quello che della decoll rive non volevo assolutamente mi hanno spinto e io oddio fake eh è un'altra parte ammazzata sta macchina è OP sta macchina qui se devi 3000 credit secondo me un pensionino ce lo puoi fare gin tanto 1000 credit per il prossimo pass e li tieni senza scioccare sì 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 assolutamente mannaggia sto boost puntualmente che non esiste ballupivo che è successo? mi sta lagando il gioco? tantissimo tipo a me sono normale ok no niente no quel mario dopo sta partita chiudo rocket per oggi va bene ex amux perché solo dovevo raffa' sta roba del trenino poi insomma non basta no 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 immagino nooo mi è scliccato mi è scappato l'analogico meno male che teniamo tutti i grip super grip qua l'analogico super grip no oddio cosa cosa parola ma che è cà madonna madonna oh no sta si impienno sta si impienno attenzione sai te fanno multa non si fanno le pende ma ti dice birri birri no mi distorcio la sbirri dell'ordine no 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 vabbè comunque era una citazione era una citazione io ti stiamo arrivando insieme a lui me la pasta e io segno no 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 non salvare le tue cazzo metti senza boost infinito dai ci sta facciamo una partita senza boost infinito no xamux ci facciamo una partita senza boost infinito proviamo a fare questa cosa del trenino a te la facciamo dopo xamux forse proprio la via se magari se ne vuole fare un'altra guarda lo sto vendendo la tua live guarda che bella la macchina no vabbè ci sta ha tutto il suo perché ha tutto il suo perché è poi tutta nera comunque il muso a me piace un sacco quella riga il muso è bellissimo bello bello c'è la scritta anche ah mi spiace xamux lo sai anche a me bruciano gli occhi infatti devo comprarmi un collirio perché penso che sto cominciando a sforzare davvero cioè sto chiedendo troppo sto cominciando a chiedere troppo le mie occhi si si no è bellissimo guarda che dietro quando la guidi adesso vuoi dire brutti guarda che in realtà non è brutta brutta no ma stai cosa non so se la compro no no però io prima vi detto dietro non mi piace dietro ha il suo perché comunque viene quello stile vecchio retro si però l'hai preso ho visto basta no ma ne hai chiamato su astarto do cazzo sta ma perché è finto guarda no dove cazzo sta dov'è ma non c'è porco due eccola si adesso sta vivo aspetta prof presti adesso preferire dimettilo ho già fatto anche blu è carina però nero 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 nella cosa brillantata o sporca nera ho capito bene che vuole significare lo si no tipo pioggia e tipo sporco di sporco di terra che lo stanno meglio ero della sky in questo modo guardare riusciamo pulite eroti che ho messo io metti esatto no quell'altro ho messo vedo un po in ritardo la live e si xx l'ho preso guarda io mi sembra addirittura da addirittura sto pensando di prendermi il pack completo madonna mia se ci sta così da una merda guarda che bella con le fiamme madonna le fiamme dietro madonna mia le fiamme rottino scontenze si chiama creat private match aspetta ragazzo ecco che no scusa scusa minchia niente rip vabbè tanto che puoi uscire rientrare vabbè si fa niente non mi ero a fare quella cosa giro giro che dobbiamo cambiare ma come funziona non l'ho cambiato mi sono sbagliato proviamo a fare sta cosa giro giro ma dobbiamo mettere l'inizio non mi cambia ma capiamo un attimo come si fa perché insomma anche bello senza toccare la palla andiamo strani allora aspetta vediamo vediamo come fa lui ma lui chi chi l'ha detto sta cosa ma ma non ho capito ci dobbiamo guidare solamente riuscire a dobbiamo pagare o dobbiamo metterci in culo uno dietro all'altro e metti la mappa della pista sto punto facciamo giro giro intorno alla pista e qual è la mappa ah sì ma poco riuscire la nuova lice la nissan o noi stiamo con questa non so se ci sta sta hitbox va bene aspetta allora attenzione allora dobbiamo mettere la nissan e poi facciamo sto trenino aspetta che la prendo dove sta la palla sta qui che dobbiamo fare la prendo pure io mi sa è troppo bella guarda c'è guarda guarda una squadra così madonna mia lo cazzo se stai accanto fa paura comunque sembra una cosa peca morti tipo stanno arrivando stanno arrivando loro stanno arrivando è la fine no ma io lo sto capendo che cazzo dobbiamo fare ora vabbè ma infatti ho anche io fila prendo vengo a fare un trenino attenzione arrivo a xamux ehi facciamo sto trenino e come cazzo si fa ok allora vai ma Mario non mi picchiare Mario ok adesso stai scherzando è bellissimo ok adesso io sono dietro di tembe ok vai dietro di me vai mettili dietro però non mi schianti è una parola eh e mo che dobbiamo fare e mo che dobbiamo fare vai vai sic guida tu davanti metti tu davanti grazie di serf non mi culare per cuore grazie di serf non sono io del follow benvenuto accelerate 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 oh oh non si può fare scusate che cazzo dite ma che bello driftare quanto stasare riproviamo 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 oh scusami non l'ho fatto a posto oh c'è sempre di fronte a me stai però dai venite venite guarda quel Mario mi sta venite venite sono dietro sicchio ok venite pronto arrivo arrivo ok ah che cazzo ah dobbiamo girare così tipo come si fa girare così ahia aspetta oddio madonna alzi difficile c'è ma aspetta solo c'è o qua ci vorrebbe la canzone di Tokyo Drift esatto ma scusate non mi che macchina non mi che macchina no no il tempo stavo andando comunque raga è bellissimo girare così raga vabbè facciamo due gold arancioni così il tempo dura di più bellissimo fare il trenino così ci sta forte proprio eccolo arrivato Xamux guardate che la palla sarà mi stava vediamo dove è Joyna vediamo vediamo dove è Joyna dove è Joyna Xamux no dove è eccolo no no sto scherzando mi sa che va in ritardo l'audio della webcam vero pochettino boh non lo so io l'audio dritto dritto tiro sto scherzando oh però stavo per sotto eh ok mi mancano 200 crediti nooo aspetta aspetta facciamo una cosa togliamo sta palla no mi togli la mettila sul lato si ma non segnala però ok cattivissimi allora aspetta il Mario mi sta seguendo si ma Mario mi sta seguendo a palla aspetta se sei che so aiuto 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 oh è pazzo no ho sbagliato il verso scusa music tocco tocco male corpo di sangue come la palla la palla da lì togliamo no scusa sangue non mi piacciono le hitbox l'hai già vista o l'hai presa alla fine sei riuscito raggiungo dei stand vediamo ma è difficile l'ho vista da te guarda occo ti riesco a vinto da ritto sopra sotto capovolto capovolto ma li metto sul lato hai visto che davanti il muso entra giusto il tocco della palla si 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 effettivamente capovolto dietro si si addomi nostro tantissimo si si ah ok si ci sta oh scusami no 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 caccia la caccia la guarda dai driftiamo prendiamo il tempo riusciamo a fare tutto insieme eh dai speriamo facciamo il replay casomai deceleriamo cazzo attento darkfire si 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 che ce la stiamo facendo prima ok scappo 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 me ne vado ok bellissimo brugnane brugnane taglia eh oh guarda che tempo dinamore le stick guarda guarda che tempissimi guarda incredibile aspetta mi aggiungo io da dietro sembrano le gare che mentre fast and furious fanno le curve esatto guarda guarda madonna la prendo larghissima no no mi ha capito l'ho spinto io eh si è rotto vai vai che spettacolo no dobbiamo fare proprio no samu si ha perso il ritmo vai uh per pochissimo uh madonna madonna oh cazzo eh raga eddy non è semplicissimo eh no perchè devi andare in sovrasterzo ok io giro largo troppo troppo stretti stiamo ottivi zucchero guarda 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 che fuori lì oh bella cazzo che fuori lì pia da non go no 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 ho premuto il pulsante del nostro premuto il pulsante del nostro di czy or quello con le bombole sto cacciando il popo ragazzi torna chi è che è scoppiato e come questa palla ma la si intravorta facciamo una cosa impossibile facciamo una cosa impossibile tre giro in un terzo e tre giro nell'altro tre al centro chi ha più controllo di fare questa cosa? tre al centro e gli altri due esterni alla parte opposta no io non ho molto controllo al centro ce la potrei fare io ce la posso fare al centro vediamo se ce la fa se mi segue se mi segue no aspetta io in senso anti-orario tocco anti-orario che io orario no mario cazzo dai sic ripendi il giro ripendi il giro vabbè decidiamo chi avanti e chi dietro c'è chi è chi è vabbè no ci lo possiamo fare ragazzi ci possiamo fare ma dove che cazzo è cattivo vabbè 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 voglio voglio tenerlo fermo magari non importa aspetta lascia 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 guardate quel cazzo di mario vediamo un secondo ok un poco poco di qua pochissimo ok ok perfetto in senso orario io ok no no mario maledetto quello se la falla è andata guarda mi giro la testa risetta risetta come? ma sto loggando con la macchina da gangster va bene portalo hai visto? guardalo 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 guarda non è vero malo toccata guarda non è vero malo toccata guarda non è vero malo toccata ma ormai gliel'ho toccata è troppo divertente ragazzi what a save ahahahah va bene allora facciamo una partita seria aspetta aspetta torno al menu mettiamo il tolgo il boost e non c'è bisogno di torno al menu i mutatori si possono cambiare da lì? eh mi sa di sì come vuoi cambiare le mappe le cose non so che non sono sicuro beh dopo facciamo una normale se non muoio sì sì infatti sto mettendo tutto normale xamox ah mario scusami drift normale intesa no no drift normale è fighissimo sic è vero divertente non so perché non l'avevo mai non l'avevo mai fatto mi era mai venuto in mente di farlo troppo bello ok ok vai dai siamo c'è c'è una fortuna in partita mi sa eh c'è no oddio sì uscite uscite ok vai ah sì il sesto quello che manca molletto ok molletto ragazzi ho la modalità canora per tre minuti qui non posso più aspetta cosa state facendo perché sono solo in questa mappa dove cazzo sei solo io sono solo di nuovo orca puttana ok abbandoniamo ecco non tolto uno boost come non ho tolto uno boost aspetta che vado a controllare se ho tolto il boost ma non lo so devo controllare mutator settings per primi minuti da diciamo oh yes ne mancano ancora due io mi stucido yes la prestatua che varnizzo però potrei anche fare una cosa ovvero non tanto e non parlo no e no e no sto gridando con porco tue sangute giura mi hai fatto venire un colpo di sangue ok va bene parlo come non detto però mi potrebbe aiutare ad avere una canzone da imitare tanta madonna canta qualche canzone di bundabash non ne conosco mi dispiace non ascolto quel genere di musica che genere di musica prima che ti viene in mente metal vabbè scusa canta l'inno nazionale no che lo sappiamo tutti a memoria canta barno e hai coragione grazie dark buyer vi amo il match già troia inizio da capo inizio da capo e aspetta stai buono startiamo i metti i metti leppano mettiamo tutto standard abbiamo sto match mettiamo la skyline e jean e un segno io vado contro ragazzi auto facciamo il casino io vado contro jean porcato la puttana con la tastiera gioca e no arne i server africani ci sono what the fuck are you doing stiamo pingando male bastardi stannaggia al maiale non so neanche i tasti puttana miseria si apre il bus lo stiamo pingando come cazzo è non va demonio canta un tarroco due orco due assolutamente non volevo se schiaccio il bus mi si apre la lista non so frenare demonio canta ok finito ragazzi grazie che fatica comunque è grandissima l'idea dell'italia è stato bellissima devo fare un match ma perché mi si accende perché mi si accende il non so fare l'altro la cosa comunque ti ho fatto una parola ma perché che stronzo che stronzo ma perché se la faccio così mi si apre il di avre il cervello bene la regina sta ferma core board oh ce l'ho ce l'ho no scusa zi oh perfetto c'è il problema mannaggia ragazzi bastardi ho riscattato i punti per le cose giuste esatto mamma mia mamma mia questa tenevo tenevo 11.000 punti alti sinistro non si capisce una minchia ragione tengo ancora 11.000 punti alti no si fa ok ok comunque ci sono capiresti i server di il nuovo discipio metti da riscattare qualcosa di più costoso però più bastardo tengo 11.000 punti madonna mia no grazie 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 via arco giuda mi busti dove si busti no come si cambia la bolca mi temono bastardo scusa madonna siii ok ok barra spaziatrice barra spaziatrice ottene ottene ci sono mamma mia ci sta carriando mamma mia eh si madonna ragazzi è impossibile giuro con la tastiera è impossibile eh guarda pad lo mettiamo qua così si vede dove cazzo lo sto usando però faccio uno speed non uno speed flick un come si chiama qua laterale speed laterale si diagonale che è una bomba con la tastiera guarda no come si cambia la bolca con la barra spaziatrice che la premi per saltare è vero è vero che mi viene per te si si ma infatti sto facendo cioè sto mandando l'istinto no ma dico quando vuoi saltare ti viene da premere per saltarti vero siii nooo esatto esatto mi viene lo spazio esatto anche a me ho due perché nei giochi la barra salta si già prima eri forti quindi onesto oddio ecco i due che poi sto pure laggando Mario si no è colpa del server no non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ok fuori ce l'ho mannagge come faccio ce l'avevo non so neanche finare no no abraccio smazzano pure ma che cazzo è sta cosa tatatatatam ma tutti con la tastiera giochiamo aspetta giochiamo tutti con la tastiera vai 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 io ho metto la tastiera adesso facciamo un match full lead facciamo un match full lead dopo dopo no no questo tasto no questo tasto come ma io l'avevo presa fottuto lagg porco due no attenzione 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 attenzio sto qua grazie a diegoz del follow grazie mille io faccio schifo però adesso sto facendo più schifo del solito diego scusami ma perché mi hanno riscattato che devo giocare con la tastiera ah sono da console dice sick eh vabbè rip rick vabbè fai niente noi tre vabbè noi tre dai ci mettiamo in squadra insieme e giochiamo tutti tra con la tastiera vai 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 fattible come mi ci schiacciano ci schiacciano male io lo dico ma donna oggi il re dei pinci sono contento che ti vada tutto bene diego grazie e della domanda a me e ti rispondo e vabbè 149 149 super mario attenzione abbiate paura di lui ma porca bolca come si salta porca 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 bolca oddio vabbè no bella è complicatissimo giocare con la tastiera però io se tornassi indietro giocherei giocherei con la tastiera direttamente troppi cazzi control bella si voi siete bravi ragazzi ho sempre detto troppi cazzi bravi secondo me con la tastiera però non arriverà mai a un punto non è no a un punto di giocare a un punto morto no no di giocare per per arrivare a livelli alti in ambito competitivo eh ma c'è che arriva si però se perché con la tastiera è molto più facile arrivare a un buon livello meccanico rispetto al controllo ah eh è più facile e quindi e quindi le persone con la tastiera man mano che vanno avanti puntano ad avere una buona meccanica che è un buon giropalla cosa ok pochi sono con la tastiera pochi sono con la tastiera forti che giocano per esempio anche il reddc ci sono per carità tipo yukeo quelli là però yukeo io gioco da stiera quando gioco da pc cosa amo cosa davvero dammi nooo non me l'aspettavo sta cosa è un folle e niente dai anzi non si può giocare almeno io non riesco ho buttato fuori tra l'altro sto pure col mouse bluetooth quindi non è manco il massimo vabbè dai adesso lascio il controller eh mi sa dobbiamo uscire però è finita dobbiamo uscire devo fare sì 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 che rank sono allora sono D2 in 3s D3 in 2s e Platino 3 in 1 in 1 purtroppo sono sceso dal diamante non sono più risalito perché non mi sono messo lì poi a rifarle le come si chiamano le 1v1 quindi rib oh ragazzi sta andando via mi dispiace però è stato molto molto divertente D3 carriato con Mario sì 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 assolutamente no no comunque dai non carriato ma è un po' si mi metti in cattiva lui dai sì comunque da rifare sic assolutamente bella bella mi ho divertito tanto io sono D1 ah beh dai siamo lì allora guardate come si come si si ok va bene ok va anche va Xamux e va anche Sik ragazzi vi ringrazio tantissimo di essere passati di aver giocato con noi spero di vedervi domani o nei prossimi giorni per rifare tante belle partitine together all together con le nostre nuove macchine fiammanti che spettacolo ragazzi molto molto divertente bella ok siamo 3 vado anche io ma resto in live per qualche chiacchiero va bene Mario grazie 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 ah io voglio giocare con la tastiera stiamo facendo partite molto 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 per divari unirti punto schema dpd ed entri a giocare con noi facciamo anche partita in knobb anche se vuoi venire insomma se non avete da fare se non è da fare con computer eccetera eccetera siamo qui siamo qui aspettiamo giusto due minuti vediamo un pochettino cosa succede cosa vogliono fare i ragazzi va bene nel tempo di entrare sono da switch ah da switch interessante c'è anche switch comunque io mi passavo da ripetere il vincita 149 inizio ideale Mario inizio ideale assolutamente oh ma cosa succede ma gli assi sono invertiti o erano già così prima non mi ricordo comunque devo imparare a fare un po' every ball come si deve col mouse no col mouse ma io sto giocando la testiera sono a forza e che non riesco a girare continuamente per cambiare direzione questa cosa non mi riesce bene non mi riesce per niente anzi tiro aiutami non riesco a cambiare posizione mentre sto facendo la rotazione automatica a circo continuo eeeh consigli mi dai consiglio di volare tanto volare tanto cercare di rimanere sempre allo stesso posto muovendoti leggermente un po' a destra a sinistra variando poi vai da una parte all'altra della mappa però scegli un punto dove arrivare e arrivi in quello cadrai sempre spesso all'inizio cioè praticamente tu parti da un punto della mappa e vai all'altro senza te ne decidi uno che è un punto piccolissimo devi centrarlo perfettamente però devi andare tipo roteando con tanta rotazione per esempio un po' a non più sì sì aspetta da porta a porta per esempio l'automatico ci decidi di abituare perché con l'anal con il no col manuale non è che ci riesco attenzione però mi viene più più semplice comunque ma perché comunque sia niente comunque devo allenarmi sempre comunque il figuro è più semplice che usare ma che cazzo ho sbagliato tantissimo non ho premuto il tasto di rotazione però non riesco a girare continuamente non riesco a girare continuamente da porta a porta per esempio tu intendi no aspetta tu intendi così tipo voli è proprio così oh 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 5 vittini grazie arriviamo al champion eh sì era bello se stavano non tanto visto il dio facevo gir1 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 mi diceva il streamer è impostato un minimo di 100 bin hai capito che è una stunnmintu5 tristudio amen è bellissima la nissan di eccoz sì sì è proprio bella allora dai andiamo con io sto giocando la tastiera mi sto allenando e lo dico mi sono pro ormai andiamo a private match purtroppo se c'è un aggiornamento e poi queste macchine sono bellissime non ti permettere eeeh ho fatto in un settimo in un momento dove stiamo a posto con la tastiera allora io sto giocando la tastiera allora Diego stiamo facendo una challenge cioè stiamo cercando di fare una partita con la tastiera tutti quanti con la tastiera noi siamo 1 e3 siamo 2 tastiera ah grazie ti ho la voglia ho la voglia di fare grazie davvero grazie grazie al tiro che sta dispensando bit ah un uomo che uomo non c'è niente lasci da perdere che grande che grande che supporter si può per me qui sto con la tastiera guarda una raga ma cazzo è vero devo anche andare a prendermi vai 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 oddio l'ho fatto aspetta ci sono ci sono no ce l'ho ho fallito aspetta aspetta ci provo ci provo non 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 che cazzo vai 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 potunno bella ci facciamo meglio così annaggia le skin si guarda guarda mario stai per vedere gli schieni hai visto che scatabili fare mario guarda qui guarda mi fa un po' tristezza vederti così vai 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 mezzo 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 ci provo ci provo va bene va bene ma che uso la barra spazietta di ci metto con l'araccio vado 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 vai ignorante eh fa un stessi vai 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 cosa cazzo combina questo lag no 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 cazzo è verissimo vai vai insomma non è l'animale più veloce di questo pianeta oh ce l'ho no mi sto baggando il cervello mi stai baggando il cervello non mi do più muovere ma cosa cazzo fai vai 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 cosa succede non capisco più una sega va bene che sto facendo mi fa tengo vai 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 scaffala scaffala mezzo 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 no quanto volte ma non cazzo forza cosa fa perco del seo no si si ok mia 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 no ma di nuovo insisti oh cazzo sarà buona cazzo la ruola ok ok aspetta come si sgomma buttala buttala si si lo che ho fatto vai boom vado 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 che cazzo vado l'ho bampato in rovesciare adoro come si fa come si fa aiuto più o meno più o meno è fuori no mezzo passo mi bastava e vai con la keyboard vado che fatica ragazzi vai dai com'è oh dio distrutto vai 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 che buono no cos'era no vai tiro ho paura paura si ha sbagliato power shot no va bene no ho flicato verso dietro faccio musty la destiera no vai come si muove la visuola con la barra no muoverla proprio guardarla tra me ah che bello q ed r quello dici dai dica mario salvo no 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 si fortissimo no grazie ah beh il commento sul rocket giustamente va bene magari la prossima la prossima dopo di questa dai dopo di questa si dai dai vai su vai su dai mamma mia signori mamma mia ci sto provando vai tirone vai tirone si si no la prontezza di riflesso del cervello mi manca vai 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 guarda 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 me l'ho presa il gilio per favore mamma mia mamma mia no dai ti voglio care mamma mia signori che spazzita dove l'acqua c'ho sete ma allora che sguario mi sguario che sguario vai 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 che buona vai che buona come cazzo è arrivato quello come cazzo è arrivato vai vai diego vai diego ti prego diego 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 ti rispiego no ho sbagliato verso ho sbagliato verso ragazzi ci provo ci provo ho sbagliato verso ho preso la tasta ah ho messo i tasti le dita sbagliate ma stiamo anche pingando ma che falle madò ma perché non si muoveva non capivo ma perché stiamo pingando 200 ma che cazzo avevo messo il medio sulla E e stavo avevo praticamente shiftato tutte le frecchette di un lato di un tasto vado 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 no che cazzo sbagliato verso preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso insisti insisti eh ragazzi si va ragazzi come si va come si esce da questo t'ho posto di merda oh ho preso la situazione no 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 ci si è ci si ok vai pericolo vai no uo l'ho spogliato ok distrutto è distrutto è tornato a casa mamma mia vai tiro no bello il ragazzo mi fa più non sa quella di tua camera bella bella mario e quando con di questa la fa oddio santo vai che ci sto credendo vai che ci sto credendo si 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 mamma mia mamma mia ciao ciao cioè scusate 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 che cazzo di come flotta ha fatto quelle bagianate oh streamele mensuno grazie per essere diventato foto benvenuto al mio canale spero toglila toglila ciao bello stiamo facendo partite chillissime stiamo addirittura utilizzando la tastiera cazzo aspetta 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 non mi ricordo come si gioca vai oh ci chissà si si è troppo dritto è troppo dritto dove è il boost quando serve si no no guarda oddio no no quasi madonna non riesco neanche a bere come sta il stream no ho sbagliato cazzo si si no non mi ricordo neanche cazzo oddio lo faccio tutto vai vai dio mio vai tutto bene tutto bene grazie grazie mille stream no lo rifà non l'ho fatto cosi oddio ha laggato no che palle no scusa aspetta mezzo in mezzo no 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 che cazzo si vuota scusate ma ciao chi è ciao e l'acca no Diego ma sta gioando anche lui da switch da switch da Diego ok ok oddio da switch c'era anche te si si è bellissima sta cosa dove posso fare una partita certo vai 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 che ci sto credendo ok ci sono ci sono no ma tu che stupido no ma che cazzo gliel'hai alzata praticamente che spettacolo ho visto che la mia che non andava eh che culo eh ma so neanche festeggiare qua eh va bene va bene i server sono la dirmania non lo so ma sei capace di essere europei ma io c'è io i server europei porca troia guarda delle cose private in Europa no 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 da qua no da qua a ma ma è ronco un cove proprio nello startare i server esce esce aspetta aspetta torniamo al menu ristalloroket dentro vabbè vabbè tranquillo io mi sono che allora c'è un west intanto che deve commentare eh da commentare non puoi eschimerti no no dico poi dopo questa non so se west west queste sono anche le due un quarto passate cazzo non mi è senti ora finiremo allora Diego devi uscire dalla partita così possiamo stare bravissimo lo spiego di Diego lo spiego di Diego potrebbe un po' va bene attenzione subito in auto credibile siamo contro peccato vabbè siamo come si chiama lo stadio siamo sul rocket league stadium subito dark buyer contro tiro sul pallone e ci prova adesso ciao mi serve per indiani adesso sono insieme a Ginn di nuovo ancora va male eh si raccomando ti ho messo oddio ma tu incredibile tiro mi spinge mi spinge dark buyer e la palla entra dentro un culo incredibile che allora stupido direttamente sul pallone ciao è dark buyer vediamo come va meglio la squadra arancione su questo kickoff come faccio cosa faccio cosa faccio innanzitutto prendi la palla tanto per cominciare eh ma non so prenderla lagga lagga tutto attenzione ci stanno provando ce l'ho ce l'ho tiro prova a mettere un buon cross c'è dark buyer che non glielo permette adesso la porta è praticamente vuota tornano gli orange ci prova ci prova con un si prova con un salto per evitare queste gol questo non è tiro da controllare madonna che caldo sto sentendo tiro 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 sul pallone tiro vediamo un attimo ma sta laggando una merda di nuovo attenzione dark buyer ci prova a farla no io sono col butt io sono provando a saltare mi sa che è anche peggio attenzione tiro favorisce il tiro di ciao oh no 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 impossibile impossibile da prendere anche se ci hanno provato gli orange ma questo chitta però dai rispetto a noi è cheating questo devo provare a fare altri guarda subito dark buyer a kickoff intanto ciao cerca il pallone ottimo lo stop di irogami però lascia il tiro tiro la paratona di buyer incredibile ci prova ci prova è arrivato dietro qualcuno ci prova a saltarlo torno dietro dove ti prende un booster vai 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 spazza spazza ok irogami ottimo il clean vai 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 niente da fare per lui tiro attacca direttamente sulla porta madonna mia che parata madonna che parata cazzo allora un attimo parata da parte di kin attenzione ehi vabbè ehi vabbè inizia da fare lascia il tiro attivo ciao è forte guarda guarda si è leggermente avvantaggiato ci provano entrambi credibile arriva il gol il tiro della tigre madonna mia 4 a 1 ci provano ci provano ci credono abbiamo fatto gli eroi dell'orange team ok no ma come mi ero buttato guarda quest'altro torna veloce torna veloce attrappare attrappare